Musica Chiamo Alba che diciamo ci racconta brevemente di questa musica Buonasera, bentornati a chi c'è per la seconda volta e benvenuti a coloro che vengono oggi per la prima volta ad ascoltare questa nostra musica perché noi siamo della pavia a termine del mondo perché sapete che il Brallo è l'ultimo comune della nostra provincia che confina esattamente con Emilia Romagna, con il Piemonte e con la Liguria quindi siamo, io dico sempre, cittadini del mondo già l'altra volta avevo spiegato che siamo un po' selvatici nel senso che noi siamo il residuato delle conquiste che man mano nei secoli venivano fatte nella nostra pianura e o venendo dal mare, dal genovese quindi tutte queste conquiste la più importante forse quella romana quando si è trovata a combattere con i cartaginesi hanno determinato che le popolazioni stanziali continuassero per paura perché c'erano le guerre perché non avevano possibilità di ribellarsi o di far fronte agli attacchi continuavano a ritirarsi finché non arrivavano nel punto più alto in mezzo alle boscaglie e lì si sentivano sicuri quindi noi siamo un po' questa tradizione io dico un po' di centi, un po' di niguri comunque popoli fieri perché le nostre origini credo che ci abbiano plasmato per tanto tempo stasera sentiremo quelli che erano i cori degli unici momenti di festa che erano concessi perché vi parlo, io sono una giovinetta come vedete ma quando ero bambina gli unici momenti di festa erano conclusi con l'intervento del coro e l'intervento dei musetta quindi del pifero, di montagna e della musa che lo accompagnava prima era una corna musa attualmente è diventata la fisarmonica si dà questo merito a Iacmon e Zegni di Zegni che pare sia stato quello che ha proprio voluto il passaggio dall'accompagnamento della corna musa a quello della fisarmonica era più semplice spostare lo strumento e quindi seguirlo in quei paesi interdi comunque da raggiungere quindi voi sapete che io ho scritto dei proverbi in dialetto brallese e pensavo a qualcuno che si riferisse alla musica ma forse eravamo così affannati, così tribolati, così stanchi che ce ne sono pochissimi che riguardano il divertimento in genere erano degli spunti delle sentenze di saggezza che dovevano insegnarti a vivere e magari ve ne leggo uno che mi è venuto in mente che potrebbe essere attenta che ritengo il microfono perché qua è molto difficile poi passiamo immediatamente alla musica io vi leggo questo quando i nuvii vanno ai ma pia sappa e va sappa a Brallo si dice che quando le nuvole vanno verso Genova tu puoi andare a zappare mai quando è il contrario perché quando vengono da Genova verso Brallo pioverà di rotto quindi la saggenza popolare quindi io adesso vi presenterei questo nostro coro che vi ho detto segnava i momenti di festa era un coro a cappella senza strumenti musicali in genere composto da soli uomini che facevano però anche voci modulate femminili soprani eccetera e infatti c'è la prima voce poi c'è la seconda e poi ci sono i famosi bassi di accompagnamento ed è veramente una scoperta spero che sia piacevole per tutti voi grazie a tutti grazie a tutti